Ciao a tutti da CoachGabry, bentornati sul mio canale. Per chi di voi non mi conoscesse, sono un fitness coach e sono trainer live... Eh sì, sono trainer ufficiale BuddyFit, sono trainer ufficiale Berris Milano e da anni ormai mi occupo di portare le persone al loro obiettivo fisico con il mio coaching personalizzato in team con Mari Elena, la nutrizionista del team. Ve ne parlerò un pochino di più alla fine del video. Come voi sapete se mi seguite dagli ultimi tempi ormai mi sono appassionato alle gare di tipo Airox che è una fitness race così chiamata, ok, che prevede molta corsa, 8 stazioni fitness alternate precedute in realtà da un chilometro di corsa ciascuna, quindi è un lavoro ad alto impatto in termini di intensità e anche di resistenza. Ho fatto un video negli ultimi tempi che potete andare a vedere dove lo descrivo un pochino meglio e ho deciso di fare qualche video in cui vi mostro un po' quello che è il percorso di avvicinamento alla gara in termini di preparazione e farvi vedere un pochino come la stiamo preparando. Quindi in questo video ci sarà una parte di voiceover durante la sessione di oggi da spiegare in modo tale da spiegarvi un pochino quello che abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto e poi insomma come sempre fatemi sapere nei commenti se c'è qualche dubbio, qualche feedback o qualsiasi cosa che volete sapere su Airox o sulla preparazione in genere. Ho iniziato oggi con dei back squat, abbiamo tenuto un lavoro su doppie e triple ripetizioni con carichi relativamente alti perché comunque vogliamo mantenere il buon feeling con gli alti carichi, l'alta intensità a livello di carico sia su back squat oggi e anche su sumo desi che ho tenuto come secondo esercizio. Quando lavoriamo invece sull'upper body sto prediligendo soprattutto panca, military press e lavoro di trazioni sia zavorrate che trazioni fatte con manubrio. Quindi oggi il menu prevedeva back squat e sumo deadlift pesanti su doppie e triple ripetizioni dopodiché siamo passati a un lavoro molto più sport specifico in stile Airox dove abbiamo tenuto un'alta intensità data da sessioni per esempio con bike, assault bike oppure shuttle run quindi lavoro di corsa dove abbiamo tenuto l'intensità alta e i battiti alti per poi approcciare le slitte che erano poi protagonisti sia sled push come vedete qui spingere e se vi può interessare faremo magari una sorta di panoramica su quella che è la tecnica sia poi lo sled pull quindi la tirata della slitta cercando di concentrarsi soprattutto sul lavoro di gamba e passetti indietro e cercando di lavorare il meno possibile con muscoli dell'upper body quindi alta intensità, slitta, focus principale di oggi in questa splendida cornice di Hyperlista Lignano che ci ha ospitati e quindi poi vi porterò anche nelle prossime sessioni qualche dettaglio in più. Bene, spero che questo breve video vi sia piaciuto come sempre vi invito a iscrivervi al canale se vi ha dato qualche spunto utile e fatemi sapere se vi piace questo format insomma di portarvi con me negli allenamenti e nella preparazione alla gara e vi ricordo per qualsiasi tipo di informazione relativa al coaching personalizzato al coaching di gruppo a distanza o in presenza ti invito a scrivere una mail all'indirizzo che trovi qui in sovraimpressione a seguirmi anche su Instagram dove sono molto attivo mi trovi come Coach Gabriel o come Gabriele De Viaggi io vi aspetto poi nel prossimo video ci vediamo alla prossima ciao da Coach Gabriel